Una bottiglia di vino che ha 58 anni Imbottigliata quando ancora c'era Elvis, Mao, Saragat Come sarà? Che gusto avrà? Lo scopriremo venerdì sera alle 8 Alle ore 20, si stappa Il barbaresco dell'antico podere della cremosina Salute antica, evviva! Lo scopriremo venerdì sera alle 8 Alle ore 20, si stappa Il barbaresco dell'antico podere della cremosina Salute antica, evviva! Salute antica, evviva!